In questo breve tutorial vediamo come costruire un organo e salvarlo in un file ODF per l'utilizzo con grandorgue. Nella schermata di apertura ci sono due campi. Nel primo verrà messo il codice per recuperare un progetto già salvato, altrimenti indichiamo il numero delle tastiere comprese la pedaliera. In questa schermata andiamo a configurare le tastiere dell'organo, indicando il primo tasto a sinistra e l'ultimo a destra per ogni manuale. Ricordiamoci di ceccare il radio L-Level, o R-Rigged, a seconda che il tasto sia il primo a sinistra o l'ultimo a destra. Obbligatorio inserire il nome delle tastiere. La pedaliera non è aggiornabile. Diamo invia. Sul pannello a sinistra possiamo scegliere come verranno collocati i pulsanti dei registri. Paralleli o alternati. Inoltre possiamo cambiare il numero delle righe e delle colonne dei pannelli, ricordandoci le regole previste dal manuale dei file ODF presente sul nostro sito. Dei campi descrittivi, per adesso, l'unico obbligatorio è il nome dell'organo. I pulsanti color presenti nei vari pannelli ci permettono di cambiare il tipo di legno per ognuno di loro. Andiamo a selezionare i registri per ogni tastiera. I registri sono classificati per i gruppi previsti dalla classificazione classica, e sono presenti in quattro lingue. Italiano, tedesco, inglese e francese. È possibile selezionare i registri dei vari gruppi cambiandoli dinamicamente. Grazie. Grazie. I registri vengono collocati per default nel pannello centrale. È possibile spostarli nei due pannelli laterali, semplicemente scegliendo il pannello di destinazione. È possibile inoltre cambiare il nome ai registri, mettendo ad esempio un nome di un registro non presente. Come è possibile eliminarli se aggiunti per errore. Possiamo cambiare anche il nome di una tastiera. Una volta completata la disposizione dell'organo, si attiva il pulsante Genera ODF. Il file generato avrà il nome dell'organo. Viene generato un codice di progetto, con il quale potrete richiamarlo in un qualunque momento, per modificarlo. Potete salvarlo in locale sulla sua directory di lavoro, ricordandovi però che così l'organo ancora non funziona. Dovranno infatti essere create le sottocartelle dei vari registri con, all'interno, i vari campioni da voi rilevati o prodotti artificialmente con gli appositi generatori. Richiamiamo un progetto, con il suo codice. Potremo modificarlo e salvarlo, per quante volte sarà necessario.